Il mito di Pandora racconta di questa donna bellissima che Zeus mandò agli uomini, ma attenzione perché è un inganno. Per capire bene però il mito dobbiamo fare un passo indietro. Prometeo aveva deciso di donare il fuoco agli uomini perché loro non l'avevano e per fare questo lo rubò agli dei. A Zeus non andò molto giù questa cosa, quindi fece incatenare Prometeo a una roccia e fece in modo che un'aquila ogni giorno gli mangiasse il fegato. Di notte poi il fegato ricresceva e così questo supplizio continuava per l'eternità. Vole però punire anche gli uomini e quindi inviò questa donna di straordinaria bellezza, appunto Pandora, che significa tutti i doni, sulla terra. Prometeo aveva detto a Epimeteo, suo fratello, di non accettare mai i doni da Zeus, ma se Prometeo significa colui che pensa prima, Epimeteo significa colui che pensa dopo e quindi Epimeteo non ascolta. I saggi consigli del fratello accetta questo dono. Pandora ha con sé un vaso che contiene tutti i mali. Questo vaso verrà poi aperto e tutti i mali si riverseranno sulla terra contro gli uomini, tranne la speranza che rimarrà in fondo al vaso. Si sa infatti che la speranza è l'ultima dea, l'ultima cosa che rimane agli uomini nei momenti di disperazione. Noi diciamo la speranza è l'ultima a morire.